Ciao amici, questo video non lo volevo fare, oggi parliamo di un fatto coccente e scottante che è ovviamente il vaccino di AstraZeneca. Vi dicevo che questo video non lo volevo fare perché in verità mi è stata richiesta questa informazione da un mio contatto. E allora, vabbè dai, registriamo direttamente un video. Allora, qual è il punto? È stato sospeso il vaccino di AstraZeneca? Certamente. Perché è stato sospeso? Perché ci sono state delle, diciamo, denunce di malattia tromboembolica successive a persone vaccinate, che hanno ricevuto il vaccino. Questo vuol dire che hanno avuto malattie tromboemboliche a causa del vaccino? Non necessariamente, anzi probabilmente no, nel senso che ogni giorno centinaia di persone nel mondo hanno trombosi venose profonde e embolie polmonari. Tromboembolie polmonari. Anche senza ricevere nessun tipo di vaccino, perché succede, ok? Come facciamo a sapere se sono state causate dal vaccino? C'è un, se c'è o comunque se quantomeno c'entra questo vaccino? Ci sono varie cose che si possono fare. Il vaccino è stato quindi sospeso in maniera preventiva, la somministrazione da Italia, Germania e Francia. Per appunto, perché, insomma, bisogna essere sicuri, il principio di precauzione. Meglio non rischiare, ok? Come si fa a sapere se c'entra o meno? In linea teorica, in linea di principio. Si va a vedere se, facciamo un esempio, prendiamo un altro effetto collaterale del vaccino, la febbre. Si va a vedere se, tra chi ha ricevuto il vaccino e chi non l'ha ricevuto, la percentuale di persone, l'incidenza della febbre, che sviluppa febbre nei giorni, in quei giorni lì, è uguale. Io vedo che molti di quelli che fanno il vaccino hanno la febbre, mentre chi non lo fa non ce l'ha. Allora dico, ah, stai a vedere che c'è una concordanza statistica, potrebbe essere quello. Prima cosa da fare. Seconda cosa da fare, andare a vedere se c'è, oltre alla concordanza statistica, anche una plausibilità biologica. E per quanto riguarda la febbre, o i dolori articolari, è molto semplice. Tu sai che stimola il sistema immunitario, causa infiammazione, l'infiammazione causa un aumento dell'interleuchina 1, esempio, interleuchina 6, se volete. Interleuchina 1 causa febbre, che causa anche i dolori, che causa tutto uno stato, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Plausibilità biologica e concordanza statistica, insomma, relazione statistica. Per quanto riguarda gli eventi tromboembolici, che cosa sappiamo? Allora, al momento che cosa sappiamo è poco, nel senso che da dati che abbiamo al momento, il numero di eventi tra chi è vaccinato e non è vaccinato, il numero di eventi tromboembolici, è sostanzialmente lo stesso. Quindi non ci sono più persone che hanno questo tipo di effetto rispetto alla popolazione normale. Ok? Quindi sono esattamente le persone... cioè, se noi su 100 persone ci aspettiamo un evento tromboembolici al giorno, su 100 vaccinati ne abbiamo uno, su 100 non vaccinati ne abbiamo uno. Perfetto. Quindi non c'è... sarà un'altra la causa. In più non sappiamo quale può essere la causa di questo aumento dell'evento tromboembolici, cioè non abbiamo ancora un meccanismo per il quale questo può succedere. Non che non ci sia, non lo sappiamo al momento, ma lo possiamo praticamente escludere, tanto che probabilmente verrà reinserito il vaccino. Tra poco, cioè, si potrà riutilizzare. Quindi, allora, io non voglio difendere AstraZeneca, anche... cioè, AstraZeneca comunque, adesso andiamo sul politico, ha sbagliato certamente qualcosa, soprattutto dal punto di vista della comunicazione. Cioè, mi sembra proprio fuori dal mondo che non ne prendano una dal punto di vista della comunicazione e che non si impegnino per screditare il meno possibile il loro nome. Perché sono certo che da questa... comunque vada, insomma, la storia. Da questa campagna vaccinale ne uscirà il loro nome, il nome di AstraZeneca, ne uscirà come quelli che hanno fatto casini, che non sanno fare i vaccini. Ok? Non colmi salvatori, certamente, indipendentemente da quello che succederà poi. Perché ormai si sono rovinati il nome. Questo mi sembra molto strano per un'azienda di questo tipo. Quali possono essere i motivi? Adesso non so, non sono un esperto di geopolitica o di politica o di quello che volete, di economia. Però magari qualcuno più esperto di me potrebbe dare una risposta. Quindi, capisco, cioè, io capisco certamente chi ha paura del vaccino. Perché, giustamente, poi guardando i giornali italiani che sono assolutamente, tolto il post, assolutamente criminali, e credo che non ci sia nessun dubbio a riguardo, cioè, capisco che se uno guarda il giornale non sa perché vengono ritirati i vaccini, perché tra l'altro i farmaci vengono spesso ritirati o sospesi, soprattutto quelli nuovi, per una cosa che si chiama farmacovicilanza. Cioè, tu vedi che se ci sono dei casi di questa malattia particolare in seguito a questa esposizione, stai attento, magari è quello. Quindi, per il momento, sospendiamolo, controlliamo, lo rimettiamo, se è tranquillo, non c'è nessun tipo di problema. Non è che sia stato sospeso, è pericoloso, è semplicemente l'abbiamo sospeso, perché noi preferiamo, appunto, ridurre al minimo i rischi. Perché, ovviamente, c'è in ballo la salute delle persone. Ma stiamo attenti, la salute delle persone è in ballo anche se non fai il vaccino. Cioè, non è che se non fai il vaccino non sei a rischio di morire. Anzi, se prendi il covid il rischio di morire è molto... Ammettiamo pure che aumenti dell'1% il rischio di eventi tromboembolici. Come, facciamo un esempio, la pillola contraccettiva aumenta il rischio, nelle donne, di eventi tromboembolici. E lì, cioè, è sicuro, aumenta adesso tre volte il rischio, qualcosa del genere. Non è tantissimo, poi, il rischio. Cioè, non è che diventa così comune, ma comunque siamo sicuri che l'aumenta. Dobbiamo vedere il rischio-beneficio. Per quanto riguarda... Questa è una sentenza molto famosa all'epoca di quando è uscita. Per quanto riguarda la pillola antiabortiva, la casa farmaceutica che l'aveva sviluppato le prime, come linea di difesa in tribunale dopo essere stata accusata da una class action di, appunto, essere pericolosa per le donne, ha dimostrato che la gravidanza aumenta il rischio di malattia tromboembolica molto più della pillola. E quindi, sostanzialmente, si è detto che, ovvio, bisogna conoscere i rischi, ma si può utilizzare tranquillamente. Ovvio, bisogna magari escludere le persone che hanno più rischi, eccetera, eccetera, ma si può utilizzare tranquillamente. Quindi, che cosa si potrebbe fare eventualmente? Mettiamo che, ipoteticamente, che un vaccino qualsiasi aumenta il rischio di una malattia. Lo eliminiamo completamente? Dipende. Dipende da quanto aumenta il rischio di sviluppare questa malattia. Dobbiamo vedere il rischio-beneficio. Cioè, è più rischioso del Covid, o meno rischioso del Covid? È più rischioso per certe categorie che magari hanno già altre patologie? E allora magari le escludiamo? No? Ma non vuol dire che sia pericoloso per tutti, tanto che la pillola anticoncezionale viene utilizzata da un sacco di persone ogni giorno, un sacco di donne che fanno i controlli giusti, gli esami giusti, e stanno benissimo, insomma. Siamo, diciamo, utilizzo corretto dei farmaci. Stessa cosa si potrebbe fare per questi vaccini. Certo, le notizie ai giornali italiani non aiutano, perché dicono un sacco di cose, non sanno bene di che cosa stanno parlando, perché, diciamocelo, i giornali non sanno di scienza, non ci capiscono un cazzo, e quindi rilanciano queste notizie sull'onda del per cercare di dare la colpa a qualcuno, il tutto si, ovviamente su Facebook, nei gruppi Whatsapp si esaspera grandemente, quindi al momento fate il vaccino, che è sicuramente meno rischioso che prendersi il Covid. Poi, se usciranno delle nuove notizie, ovviamente, saremo sempre su questi schermi, vi sarò aggiornati eventualmente, per il momento però sembra, e dico, oggi, 15 marzo, ora 18.23 del 2021, sembra che non ci sia nessun tipo di rischio e di problema, e che anzi verrà reintegrato tra poco. Se così non dovesse essere, ne riparleremo, insomma. Se volete informazioni più aggiornate, ovviamente, Instagram della dottoressa Roberta Villa, non ve lo lascio da nessuna parte, cercatela su Instagram, ne parla molto spesso, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!